Musica Telespettatori vanno ritrovati con informazione di Terediogene. E' saltata ieri, ufficialmente per mancanza del numero legale, la seduta del Consiglio Comunale di Crotone, che dovrebbe comunque riunirsi oggi, e sarà difficile far digerire ai cittadini l'aumento dei tributi. Oggi si terrà in seconda convocazione la seduta del Consiglio Comunale, che deve approvare, convocato per approvare, l'aumento delle tariffe per tutti i cittadini di Crotone. Sono molte le tariffe che devono approvare oggi, ma ci sono anche proposte di taglio. Ieri in prima convocazione non si è tenuto il Consiglio, lo potete vedere nelle immagini che abbiamo realizzato. Erano presenti una diecina, ne accorrevano più di sedici, quindi il Consiglio non era valido, è stato aggiornato in seconda convocazione. Oggi la richiesta dei consiglieri per essere la maggioranza è di gran lunga e inferiori. Occorrono 13 consiglieri comunali. Ieri quindi volutamente è stato fatto venire meno il numero legale. Che cosa sta per approvare il Consiglio Comunale di oggi? Che cosa approverà? Sempre che si raggiunga l'accordo, perché c'è un tentativo, anche mentre stiamo andando in onda nella prima edizione, c'è un tentativo di capire dove è possibile tagliare per ridurre l'aumento delle tariffe per i cittadini. Si tenta soprattutto di evitare di far pagare l'addizionale IRPEF comunale ai cittadini che hanno 10.000 euro l'orde di reddito all'anno. Sarebbe davvero questa una grande iattura, perché si va a incidere sullo stipendio mensile di chi guadagna 500 euro nette al mese. Sarebbe davvero una cosa molto brutta. E allora andiamo nel merito della questione. Allora, l'operazione che cosa sta tendendo di fare? Intanto di ridurre lo stipendio del sindaco e degli assessori e a cascata dei consiglieri comunali. Si parla del 10% in meno. Quando si abbassa lo stipendio del sindaco al 10%, a cascata, bisogna ridurre quello degli assessori e quella dei consiglieri comunali perché devono essere adeguati a quanto percepisce il sindaco. Facciamo un esempio. Se fanno un taglio del 10% e un assessore guadagna 2.000 euro, che è questo più o meno il guadagno di un assessore comunale, il compenso passa da 2.000 euro al mese a 1.800, mentre tra i consiglieri c'è la diffusa convinzione che bisogna abbassare del 15% il compenso. Però questa è una partita che è in discussione. E allora bisogna, tra i tagli, perché è fatto di tagli e di aumento, tra i tagli sono le incentivazioni alle attività lavorative dei dirigenti e funzionari. Sono previsti tre tipi di intervento. Il 50% di taglio ai fondi incentivanti alle attività lavorative per l'avvocatura. Il 50% prevista di taglio per la progettazione. Sì, perché i dipendenti, i dirigenti e i funzionari si pagano anche quando fanno progettazione, hanno compensi anche per le progettazioni che fanno. Quindi queste compensi vengono ridotte al 50%. E poi, ancora non si è capito quanto, anche per quanto riguarda altre attività. L'Atari, e qui entriamo nelle dolente note, si sta valutando di aumentare la spazzatura del 10%, ma potrebbe non bastare questo aumento. E' un aumento che è previsto dalla legge per i comuni che non fanno la raccolta differenziata. Siccome il Comune di Crotone di raccolta differenziata ne fa poca, quindi il conferimento in discarica dei rifiuti tal quale per legge hanno prodotto un aumento. Quindi sarà applicato questo aumento che è minimo del 10% rispetto a quello che paghiamo oggi, ma potrebbe essere addirittura superiore. La tassa che si paga sulla prima casa, si parla di un aumento dall'1 per mille al 2,5 per mille. La tassa di soggiorno viene introdotta a una tassa di soggiorno per quei cittadini che vengono in ferie a Crotone e che vanno negli alberghi. La tassa si paga a secondo della stella che ha l'albergo. Più è alta la stella e più si paga, ma dovrebbe girarsi da 2 a 3 euro al giorno. I servizi a domanda quasi spariscono, sparisce il contributo che viene dato dal Comune, che è stato dato finora dal Comune per quanto riguarda i servizi a domanda, che sono la menza per i ragazzi, delle scuole elementari e medie, dalla scuola materna elementare e medie e il trasporto. Poi si tenterà di recuperare questo contributo in un altro modo che vi dirò più avanti. Quindi al momento, se oggi viene approvata questa operazione che è i punti all'ordine del giorno, sparisce proprio il contributo per la rifiazione di trasporto, il contributo pubblico. Si interviene anche su alcune cose, per esempio l'occupazione del suolo pubblico. Parliamo di tavolini e gazebo. Pageranno di più quelli del centro e di meno quelle delle periferie, ma dovranno pagarlo tutto. Salta sicuramente, almeno che non si trovi la ragione per evitarlo, l'addizionale IRPEF per i redditi, come abbiamo detto, fino a 10.000 euro. Tra i tagli, che cosa si sta valutando? Si sta valutando di tagliare per esempio le utenze telefoniche, di ridurre i telefonini, la spesa dei telefonini anche per i consiglieri e per tutti i dipendenti. Le utenze elettriche, le utenze del gas. Poi si tenta anche di mettere ordine, per esempio, ai lavoratori del traffico, quelli che dovrebbero fare le multe quando uno parcheggia senza pagare quanto dovuto. Allora, questi lavoratori comportano per il Comune di Crotone una perdita, anziché un incasso, una perdita all'anno che supera i 100.000 euro. Una delle questioni che si sta affrontando è quella di chiudere, per esempio, alcuni spazi di parcheggio mettendo la sbarra, in modo che chi parcheggia è obbligato a farlo proprio domani. Domani mattina si inaugura una di queste cose, quella vicino al tribunale, uno di questi parcheggi. Quindi oggi il Consiglio è chiamato ad approvare queste modifiche, tagli e aumenti. Lacrime e sangue per i cittadini in ogni caso, perché gli aumenti ci saranno. Saranno più cospicui o meno cospicui, a secondo i tagli che riusciranno a fare agli sperperi. Se indirizzeranno più tagli si ridurrà l'aumento sulle spalle dei cittadini. Subito dopo il Consiglio Comunale, sempre che si raggiunga il numero legale, sempre che la maggioranza che ci sarà in Consiglio Comunale sarà nelle condizioni di approvare la proposta che viene fatta dall'Aggiunta, perché questa è una proposta dell'Aggiunta, che è passata anche attraverso la Commissione Bilancio, che ha trovato qualche alzata di scudi da parte dei consiglieri, che non vogliono sentire parlare, ecco che il problema sta qui, che non vogliono sentire assolutamente parlare di aumenti per i cittadini a 6-7 mesi dal voto. Sempre che si trovi la quadratura del cerchio, oggi passa questo e subito dopo si riunisce l'Aggiunta per approvare lo schema di bilancio. Poi ci sarà un mese di tempo, un mese e qualcosa di tempo, per preparare il bilancio vero e proprio. Lì, nello schema di bilancio, verranno messe tutte queste questioni approvate oggi dal Consiglio Comunale. Poi nel bilancio vero e proprio si possono fare aggiustamenti. Per esempio, la mensa e il trasporto degli alunni si può intervenire, perché nel frattempo dovrebbero arrivare i soldi dalla Convenzione Ionica Gas, faccio un esempio, una parte dei quali potrebbero essere utilizzati per ristorare le famiglie che affrontano le spese del trasporto alunni e delle menze scolastiche. Insomma, gli aggiustamenti potranno venire in itinere perché da qui a qualche settimana arriveranno altri fondi, potrebbe esserci una situazione economica diversa e quindi ci potrebbero essere degli aggiustamenti. Forché nelle tariffe che vengono aumentate, l'aumento che viene deciso oggi resterà comunque. Gli aggiustamenti potranno arrivare per quanto riguarda invece i servizi che verranno dati alla città. Ci aspettano mesi di lacrime e sangue, perché davvero un aumento, aumenti che non so se la città di Crotone riuscirà a sopportare, vista il livello di povertà in cui versa. Dovrebbe riaprire martedì il cantiere per il completamento della strada Tufolo-Mare, lo annuncia ai nostri microfoni, l'assessore comunale all'urbanistica Sergio Conterino. Martedì apre ufficialmente, riapre ufficialmente il cantiere della strada del mare. Si realizza un sogno, un'opera che è molto attesa, soprattutto da quelli che abitano nella zona di Tufolo-Farina, perché dovrebbe dividere il traffico e quindi consentire di raggiungere la città, il centro della città, da due direzioni distinte e separate. Sì, diciamo che siamo al dunque. Già oggi c'è l'impresa che ha vinto l'appalto, che è già sul posto. Martedì apriremo ufficialmente questo secondo tratto della Tufolo-Mare e stiamo già lavorando sul terzo tratto. Quindi questa è un'opera che noi, a parte il fatto che io l'ho trovata dal punto di vista politico, diciamo... Era un progetto che era fermo. Sì, era fermo da diversi anni. Noi non possiamo dimenticare che in quella zona abitano 20.000 persone. Quella non è un quartiere. È una città. È una vera città, nella città, come dice lei, e che ha bisogno anche di queste opere di civiltà. Quindi questa attività che noi abbiamo messo in campo in questi mesi ci ha portato a dare operatività alla Tufolo-Mare. Ma in questo momento noi abbiamo in città, io parlo del mio settore, 11 cantieri aperti. Quindi alcuni sono già nella fase conclusiva della loro attività. Da quando lei è diventato assessora al bilancio, al bilancio e quindi all'attività urbanistica, quanti progetti ha recuperato che erano fermi? Ma guardi, abbiamo recuperato una serie di progetti. Quali sono questi progetti? Il teatro? Il teatro, la Tufolo-Mare, Archeurbe. Che cos'è l'Archeurbe che non lo ricordi? È un'attività che verrà messa al centro della nostra città per valorizzare ancora meglio il nostro centro storico. Anche qua è un'attività che abbiamo velocizzato perché noi sul centro storico, le porte di cesso, Archeurbe, Bastione Toledo, il centro che metteremo all'interno di Bastione Toledo, daremo veramente un salto di qualità al centro storico. Ma non solo. Stiamo chiudendo la chiesa sconsacrata di Santa Margherita. Ma che è stato chiudendo? Stato chiudendo i lavori. I lavori, sì, sì. E quindi daremo fruibile ai nostri cittadini. Stiamo chiudendo il cantiere del centro sociale della zona di Margherita. Anche questo lo daremo al quartiere. Erano tutti i progetti che erano fermi quando lei... Sì, abbiamo velocizzato tutte queste cose. Stiamo finendo i lavori di Gabbelluccia. Abbiamo mandato alla stazione unica appaltante il lotto degli ascensori del quartiere Gesù, la pista ciclabile, la fornitura del park ride. Quindi in questo momento circolano nel settore urbanistica quasi 25 attività. Tra quelle aperte, tra quelle alla stazione unica appaltante, tra quelle in fase di apertura e quelle in fase di approvazione del progetto e quindi il successivo passaggio alla stazione unica appaltante. Io sono estremamente fiducioso che tutti questi cantieri, quindi stiamo parlando di 26 cantieri, possono chiudersi con la chiusura dell'attività amministrativa della Giunta Valloni in modo veramente di avere preso un impegno e di averlo concluso. Ma poi penso che ci sia un'altra attività che abbiamo ripreso in questi giorni perché era stata sospesa per problemi dell'ingegnere Cozzolino che non ha deceduto. È deceduto purtroppo. Mario Cozzolino purtroppo, sì. Cozzolino che in questo momento era il responsabile della ristrutturazione del Palazzo Iorno. Deve fare un privato però. Però su questo abbiamo messo in campo questa sinergia amministrazione privato, riprenderemo immediatamente questo progetto. Abbiamo già incontrato il nuovo tecnico che ha messo a disposizione la famiglia Ciliberto. Quindi anche qua stiamo velocizzando questo progetto che anche qua deve diventare un fiore all'occhiello perché stiamo parlando del centro, stiamo parlando del nostro centro cittadino. Quindi il centro cittadino, il centro storico, il teatro che siamo nelle possibilità di dare una risposta si rende conto che stiamo investendo tanto sull'abbellimento della nostra città. Dopo il violento pestaggio ai danni di un avvocato crotonese interviene l'Associazione Nazionale Forense Crotone. Sentiamo. Abbiamo appreso con profondo sconcerto e incredulità della brutale e vila aggressione perpetrata ai danni dall'avvocato Gino Andrea Covello, un collega appartenente al nostro foro, avvenuta nella pubblica via in pieno giorno davanti ai testimoni nei pressi dell'ufficio del giudice di pace di Crotone. Lo scrivono in un comunicato il direttivo dell'Associazione Nazionale Forense di Crotone. che cosa è successo? L'avvocato Covello è stato accreditato una quindicina di giorni fa davanti, appunto, come dice l'ANF, davanti all'ufficio del giudice di pace di Crotone. L'aggressore non era un pregiudicato e non aveva legami con la professione di avvocato, ma è questione di vicinanza, di condomini, cose del genere. L'avvocato ha avuto la peggio, è stato ricoverato anche in ospedale, gli è stata rotta la mandibola, c'è stato anche bisogno di un intervento chirurgico. E' una cosa di una gravità inudita se si pensa anche alla motivazione che ha determinato l'aggressione segnalata dall'Associazione Nazionale Forense Crotonese. Abbiamo appreso altresì che il collega aveva già manifestato alle autorità competenti le proprie preoccupazioni per aver ricevuto numerose minacce esplicite alla propria incolumità fisica e della sua famiglia. e questo è grave, quello che dicono gli avvocati è molto grave, cioè questo avvocato aveva fatto una denuncia cautelare alle autorità competenti per avere protezione. Ebbè, è stata ignorata questa cosa, è stata consentita allora l'aggressione. Abbiamo appreso ancora che pochi giorni prima di venire salvaggiamente picchiato il nostro collega aveva ricevuto la notifica del rigetto senza istruttoria delle proprie richieste di tutela. E allora, siamo davvero quello che dice l'Associazione Nazionale Forense di Crotone dovesse rispondere davvero siamo davvero all'assurdo all'assurdo un cittadino che chiede di essere tutelato e viene rigettato questa richiesta e poi viene aggredito e quasi ci lascia le penne per l'aggressione. Se tutto ciò dovesse trovare conferma, scrivono gli avvocati e l'ANF, ancora una volta ci chiediamo quante aggressioni, quanti attentati, quante intrusioni violenti negli studi legali, quante auto danneggiate dobbiamo ancora attendere, ebbè, quanti cittadini subiscono la stessa cosa, non solo gli avvocati, ma quanti cittadini sono costretti a subire le stesse cose perché chiedono di essere garantiti e non vengono garantiti. Quanti ricoveri in ospedale di avvocati feriti, se non altro, prima che si adottino adeguate contromisure, il gravissimo episodio conferma ancora una volta il livello di tensione che serpeggia nella comunità di cui facciamo parte, ma soprattutto conferma la scarsa e ormai perduta considerazione che si ha dell'avvocato, anche da parte delle istituzioni, che non viene più visto come colui che si pone al servizio della collettività, ma come un soggetto da colpire sempre e comunque con tutti i mezzi, leciti e illeciti. Si legge in questo comunicato del direttivo dell'ANF. Dunque, dopo l'ennesima aggressione, siamo fermemente convinti che l'avvocatura non possa rimanere inerme dinanzi a simili manifestazioni di inedita violenza, che vi sia la necessità che gli organi competenti non lasciano passare nel silenzio un episodio di tale gravità. La gravità è che questo episodio, ho sentito il presidente dell'ANF, dice che finora non è stato fatto nulla, nemmeno dopo l'aggressione, secondo quanto è riferito il presidente dell'ANF di Crotone, l'avvocato Vincenzo Medici. Dunque, l'Associazione Nazionale Forense, sezione di Crotone, esprime la più ampia vicinanza e solidarietà al collega colpito, non solo fisicamente, ma sicuramente anche moralmente, e auspica che vengono al più presto accertate le responsabilità penali e non sia di chi ha compiuto tale inqualificabile gesto sia di chi, avendone il potere e il dovere, nulla ha fatto per impedire che tutto ciò accadesse. Fiaccolata silenziosa ieri in piazza Pitagora a Crotone in favore del Marrelli Hospital. Fiaccolata silenziosa ieri sera a favore del Marrelli Hospital. C'era la gente, c'erano gli amministratori comunali, c'erano i sindici, c'era un po' tutta la città che conta. A sostegno di questa avvertenza del Marrelli Hospital, perché ancora non ha l'autorizzazione, a distanza di molti mesi, di anni, ancora non è riuscito ad avere l'autorizzazione ad esercitare l'attività medica. Comunque ieri la città in qualche modo ha risposto, ci potevano essere più gente, ce ne poteva essere anche di meno, però la città c'era. Tenete conto che siamo nel mese di luglio, molte persone anche sono fuori sede, molte persone vanno al mare, anche se l'argomento si prestava ad avere una presenza numerosissima, però la gente ha partecipato. Quale sarà la risposta? Da quello che è stato possibile apprendere, Scura non intende autorizzare almeno i posti letto chiesti da Marrelli, questa è la cosa. Anche se Massimo Scura che è poi il commissario per il piano di rientro sanitario regionale oggi verrà Crotone e da quello che è stato possibile apprendere andrà a far visita anche a Marrelli. Quindi ci sarà un confronto, non sappiamo i termini di questo confronto, intanto da Roma rimbalzano voci dal Ministero della Salute, voci non ufficiale ovviamente, si tratta di voci raccolte tra persone che orbitano nel Ministero della Salute di Roma ma che non hanno l'ufficialità, non c'è niente di certo in quello che sto dicendo. Queste voci dicono che Marrelli avrà l'autorizzazione esclusivamente per la radioterapia e non per ricoverare la gente nell'ospedale, quindi esclusivamente l'autorizzazione almeno per il momento dovrebbe esserci solo per l'impianto di radioterapia. Il primato della povertà in Italia aspetta alla Calabria secondo il rapporto Svimez 2015. La Calabria è sempre più povera. Lo dice anche, lo conferma il rapporto Svimez 2015 che è stato presentato oggi. La Calabria aspetta il primato della povertà con 15.807 euro di PIL per abitante contro i 37.000 della regione più ricca che è il Trentino Alto Adige. Che cosa significa questo? Significa che in Calabria si produce di meno, ci sono meno attività, ci sono meno occupati. Questo significa che in Calabria non solo ci sono meno attività produttive, ma soprattutto c'è meno lavoro e allora che riflettessero addirittura il sud d'Italia e quindi anche la Calabria a una situazione peggiore della Grecia che ha riscatto il default. Riflettessero su questi dati diffusi oggi dallo Svimez i nuovi rappresentanti della giunta regionale che devono dare un'accelerata in modo da invertire questa tendenza perché la tendenza anno per anno è sempre la stessa. Anzi, peggiora il dato calabrese rispetto al dato nazionale e quello anche delle altre regioni del sud. Il sud ha problemi e la Calabria nel sud ha più problemi degli altri. Quindi speriamo che questa nuova giunta calabrese sappia trovare le ragioni per invertire questi dati e regalare alla Calabria un sorriso, regalare a questa Calabria, ai giovani di questa Calabria, la speranza di poter lavorare qui senza dover emigrare. Due commercianti di Ciro Marina, LA e GA, sono stati arrestati dai carabinieri per furto di energia elettrica e rimessi in libertà dopo la convalida del provvedimento dal GIP del Tribunale di Crotone. I militari, durante un controllo con l'Enel in un esercizio composto da due distinti attività, hanno scoperto che il contatore era stato bypassato, l'allaccio abusivo era stato completamente interrato, forse da dieci anni, epoca di costruzione dell'edificio. Apprezzo il via oggi a Crotone il trofeo Optimist Italia. Briefing iniziale del trofeo Optimist Italia. Ci sono molti ragazzi e quando si vedono i ragazzi che sono contenti, allegri, il cuore si riempie di gioia in una città dove non c'è da stare molto allegri. È il motivo di tutto, i ragazzi sono la ragione di questo grande sforzo organizzativo, cerchiamo di educarli allo sport, cerchiamo di educarli alla civiltà, cerchiamo di educarli all'amore per la loro città. Questo villaggio che costa qualche sacrificio alla città, ai residenti, però contemporaneamente è anche uno spazio vivo in cui si respira entusiasmo, si respira energia positiva. Oggi cominciano le regate. Si può guardare al futuro oppure questo ti dice che la città ha ancora le caratteristiche giuste per puntare a un futuro diverso da quello attuale? Questo dice che c'è una parte della città che è adeguata a questo. Poi riscontriamo anche molta incultura, molta resistenza rispetto alla ricerca di una vocazione turistica. per cui c'è molto da lavorare sulla parte della mentalità. Educativa, educativa. La parte della mentalità, se vogliamo davvero diventare una città turistica e credo che non abbiamo alternative, c'è molto da lavorare. Oggi iniziano le regate. Oggi iniziano le regate facendo i debiti scongiuri e aspettando l'alzarsi del vento. Saranno tre giorni di prove, saranno tre giorni di spettacolo a terra e in acqua. nonostante le sue smentite ufficiali, gli ambienti polici la danno come sicuro candidato a sindaco. Io ho una sola parola e quindi non potrei guardare in faccia i miei figli se dicessi una cosa e ne facessi un'altra. Nella mia vita ho sempre fatto quello che ho detto, ho detto che io non sarò il candidato a sindaco di questa città e non lo sarò. Beh, stupendo, non bello, vita, vivere, loro sono il nostro futuro. Un ringraziamento sicuramente al gruppo velico per quello che sta facendo, quattro manifestazioni in un anno e a cornice di tutto quello che sta facendo nel mondo sportivo crotone. Anche per la città. Soprattutto per la città e oggi è un'immagine veramente bellissima con la speranza che loro possano portare a casa un ricordo veramente importante. Se lo ricorda il giorno del arrivederci al CONI, io le ho detto che lei sarebbe andato col club velico, gliel'ho detto fuori dai microfoni, ero stato l'unica a intuire questa cosa. Beh, c'è il club velico che sta facendo un lavoro importante. Io penso che lei abbia avuto prima di fare quell'affermazione un colloquio col presidente Verri che magari gli aveva... No, no, assolutamente no. Allora era stata una sua supposizione. Sì, era stata un'intuizione perché che vuole, i giornalisti devono anche intuire. Ma una volta che si chiude come dire un ciclo lì alla guida del CONI si apre adesso questa nuova esperienza coinvolto in modo particolare devo dirle dall'entusiasmo che vedo in questa associazione sportiva in tutto quello che di buono sta facendo per il nostro territorio per i nostri ragazzi per questa specialità sportiva della vela che cresce ogni giorno di più quanto al numero di iscritti e partecipanti. Oggi siamo qui con questa regata una regata nazionale divisa in due categorie che poi sono i uniori e cadetti e quindi infatti ci saranno due trofei diversi perché il trofeo è un trofeo di livello nazionale il trofeo Optimist Italia però abbiamo la categoria Aico che è riservata ai uniori e la categoria la Coppa Touring che invece è riservata ai cadetti 180 ragazzi che oggi disputeranno nelle nostre splendide acque questa regata naturalmente noi oltre che col club organizzatore siamo anche uno dei club che partecipa con 20 ragazzi per cui ambiamo e aspiriamo anche risultati di grande livello e prestigio Lo sport unisce insomma si passa anche sopra le amarezze poi alla fine lo sport unisce Ma guardi le amarezze durano un giorno certo e l'ho già detto nell'intervista dell'altra volta non mi sono piaciuti come dire i metodi e neanche ricevere una telefonata di riconoscimento a quello che era stato il lavoro fatto sia per il coni provinciale che per quello regionale negli anni in cui sono stato lì a loro disposizione a supporto dello sport del territorio crotonese però voglio dire oggi c'è una nuova avventura il presidente Verri mi ha voluto al suo fianco sto cercando di coordinare il lavoro delle varie squadre che sono tante nelle categorie laser optimist la vela paralimpica la scuola vela abbiamo tanta tanta carne al fuoco e l'organizzazione deve essere ottimale per fare in modo che non si sbagli nulla e che quando questa gente va via da crotone possa dire abbiamo trovato un'adeguata organizzazione la giusta accoglienza un mare splendido il vento c'era per cui questo significherà che avremo nuove regate e soprattutto questo ci serve per acquisire esperienza anche per quella che sarà la regata più importante quella del prossimo anno con gli europei 2016 come si dice vento in poppa vento in poppa speriamo che sia propizio a tutti però questa volta me lo consenta speriamo che i nostri facciano la loro parte noi siamo siamo al di sopra delle parti però però il tifo è dentro il cuore noi vogliamo assolutamente sì i ragazzi lo sanno grazie parte dell'associazione italiana classe optimist si deve a una ragione importante e cioè al fatto che crotone è il campo di regata dei campionati europei optimist 2016 stamane presso la lega navale di crotone l'area marina protetta a capo rizzuto ha presentato le attività realizzate nell'ambito del progetto denominato azioni multifunzionali per la valorizzazione della fascia costiera dell'area marina protetta a capo rizzuto sentiamo fondo europeo per la pesca è stato fatto siamo a un workshop finale di un'iniziativa realizzata dall'amp dall'area marina protetta sì questo adesso stiamo presentando un progetto che ci è stato approvato nell'ambito del fondo europeo della pesca molto interessante consiste in due azioni una che in particolare per quanto riguarda l'attività di sensibilizzazione sul tutelo e soccorso della tartaruga marina della caretta caretta che oramai l'area marina protetta svolge da quasi 17 anni un altro ancora interessante per l'alizzazione di un percorso archeologico subacqueo a Punta Scifo scoperto quello che vediamo nelle immagini quello che stiamo vedendo nelle immagini sono quelle sono scoglie ma ci sono anche resti quelli sono marmi è un carico di marmi poi l'archeologo sono marmi di quale periodo? e l'archeologo dottor Medaglia poi storicamente potrà essere ovviamente più preciso di me però è molto importante è stato scoperto nell'86 dal nostro sub Gino Cantafora al quale ovviamente questo percorso è dedicato ed è molto importante perché essendo a soltanto 6-7 metri di profondità è pienamente fruibile sia con maschereppine cioè in sea watching sia con le bombole quindi in questo modo riusciamo a valorizzare il percorso archeologico subacqueo che abbiamo sui fondali dell'area marina protetta e finalmente poterlo fare vedere questo è il secondo perché il primo l'abbiamo già realizzato intorno al Castello Aragonese questo diciamo un punto di cifra è anche altrettanto importante perché sul Crotone però nei nostri obiettivi è quello di valorizzare tutto quello che c'è sott'acqua e questo grazie comunque soprattutto anche alla soprintendenza con la quale abbiamo stipulato un protocollo di intesa e per ricordo anche la dottoressa Isa che si è impegnata molto su questo e ripeto dare la possibilità di andare a visitare reperti archeologici sommersi è una cosa importantissima perché è un valore aggiunto è un ulteriore valore aggiunto a quelle che sono le caratteristiche dell'area marina protetta di tutto il nostro territorio Salvatore Medaglia è l'archeologo che ha curato questo percorso fatto dopo il Gold Shop Sì sono stato il progettista e il direttore dei lavori di questa bella cosa che abbiamo realizzato in collaborazione con l'area marina protetta e la soprintendenza archeologia della Calabria tesa a valorizzare il nostro patrimonio archeologico subacqueo che è molto importante per le potenzialità enormi che ha considerando che il turismo archeologico subacqueo ha un trend di crescita nel nostro paese ma in Europa molto ampio Dottor Medaglia a quale periodo risalgono quei marmi che vediamo appunto a scifo? Allora quei marmi risalgono alla prima metà del terzo secolo e sono il resto di un carico navale naufragato di una nave una navis lapidaria romana che proveniva dall'Asia minore e conteneva dei marmi di varietà bianca il proconnesio il docimeno la cosa molto interessante è che questo relitto è per il momento il più grande carico di marmi di età romano mai scoperto nel Mediterraneo con un tonnellaggio pari a 340 tonnellate di marmo Ci sono solo i marmi o c'è altro da vedere? Allora ci sono i marmi da vedere però per chi si vuole essere cari al museo archeologico di Capocolonna può vedere altri materiali relativi a questo relitto che sono oggetto del recupero durante gli scavi del 1987 e che spettano alla cambusa ai marinai alla vita di bordo e all'attrezzatura della nave Il comune mortale non il subacqueo che vuole andare a vedere quello che c'è sott'acqua che deve fare? Allora tenete tenga presente che questo itinerario archeologico è stato modulato affinché fosse fruibile da più persone possibile per questo esiste un percorso aperto per i sommozzatori per chi va con l'autorispiratore ma esiste anche un percorso modulato specificatamente per chi va a fare lo snorkele cioè per chi nuota in superficie solo con la maschera e il boccaglio Giuseppe Paolillo rappresentante del WWS si interessa in questo workshop della tartaruga caretta caretta Sì sono stato invitato dalla direzione del parco della riserva marina ho accettato con molto piacere e entusiasmo l'invito anche perché ormai da 15 anni c'è un rapporto di stretta collaborazione tra il WWF e la riserva marina Non è la prima volta che noi la intervistiamo Sì mi ricordo mi ricordo di lei abbiamo partecipato anche a una conferenza sulla Palinuro mi pare due anni fa proprio qui a Crotone Niente dicevo che c'è questa profigua collaborazione con la riserva marina di Capo Rizzuto e il WWF è stata la prima associazione ad interessarsi sia a livello nazionale che a livello regionale del problema della conservazione della tartaruga marina sulle nostre coste iniziative sportello anticrisi l'ingegnere Salvatore Nocita è il nuovo coordinatore dei servizi di confartigianato Crotone la quota associativa 2016 per i vecchi e nuovi soci è a costo zero nuovi servizi anche nell'ambito dell'edilizia ed ora il Pungiglione in piazza Messina a Crotone col Pungiglione questa mattina siamo in piazza Messina è già piazza Messina oggi piazza Lucifero il il grado di civiltà di un popolo si misura dalla pulizia che la città che abita ha si misura il grado la capacità degli amministratori e si ammisura anche il livello di civiltà dei cittadini quella degli amministratori si misura con se i cassonetti vengono o non vengono o non vengono scaricati adeguatamente se la spazzatura viene lasciata per strada oppure portata nelle discariche o si fa la raccolta differenziata quella dei cittadini si misura quando ogni luogo della città è pulito o sporco beh qui questa che vedete è il livello di civiltà dei cittadini di Crotone siamo in una piazza parallela al mare a 20 metri c'è il mare guardate quello che hanno combinato i cittadini crotonesi in questa piazza l'hanno trasformato in una pattumiera e poi diventa difficile pulirla diventa quasi impossibile ma quanto se tutti i cittadini si comportano così quanti operai e quanti soldi ci vogliono per mantenere la città pulita la domanda è pertinente e la risposta ve la date a voi ed ora vediamo alcuni appuntamenti previsti per domani venerdì 31 luglio alle 10.30 presso il parcheggio adiacente il tribunale di Crotone in Corso Mazzini in presentazione del nuovo sistema di parcheggi sorvegliati prende il via domani la seconda edizione della fiera medievale Gesù Maria città di Crotone alle 19.30 partenza del corteo storico da piazza della resistenza festival internazionale del pitagorismo e della musica contemporanea sperimentale domani venerdì 31 luglio alle 19 presso Parco Pignera si terrà la presentazione del festival e degli artisti a cura di Nicola Zurlo e si svolgerà da domani fino al 2 agosto nell'area portuale di Ciro Marina la festa dell'unità dei circoli PD di Ciro Marina e Ciro dal titolo noi insieme per un ritorno al futuro ed ora vediamo il tempo previsto per domani su Crotone e provincia si prospetta sereno visibilità ottime vento di 6 nodi temperatura massima prevista nella città capologo 29 gradi la minima 27 ed ora il bollettino nautico del Marvionio tempo vento da nord ovest forza 3 con brezze costiere sereno poco nuvoloso visibilità buona mare mosso tendenza vento da nord ovest forza 3 sereno poco nuvoloso bene io ho terminato grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni